Buongiorno a tutti, siamo di nuovo all'Hotel Melià dal Milano ai Fideliti, questa è la seconda giornata e sono in compagnia di Vittorio Bianchi, Video Cell e Antonio Grandi di GTO e insieme voi curate la distribuzione in Italia dei prodotti Cord Electronics se non sbaglio. Esattamente. E sono poi nella saletta, nella spettacolare saletta di Video Cell di cui già avevamo parlato qualche giorno fa insieme a te Vittorio che si candidava a essere la sala ben suonante, la miglior sala della storia dell'Hotel Melià. Non aspetta a me dire questo. Non aspetta a te però direi che ci siamo, che ci siete riusciti. Riteniamo di avere ottenuto un ottimo risultato. Abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Sì, riscontri soprattutto degli utenti sono stati veramente positivi. La saletta ovviamente è molto controtendenza, io mi permetto di chiamarla innovativa in quest'ambito perché è composta da una parte di trattamento acustico passivo e una parte di trattamento acustico attivo. Il riscontro degli utenti che sono spesso anche, sappiamo, nel mondo degli audiofili ci sono un po' di preclusioni, di preconcetti, in questo caso è stato estremamente positivo. Grande apertura, grande interesse sia verso l'acustica passiva che quella attiva, quindi verso la parte di calibrazione. Benissimo. Ho notato, oltre ai diffusori B&W 803 D4 che sono un'anteprima per questo Fidelity perché benché presentati ormai il primo settembre, se non sbaglio, sono stati introvabili fino a questa settimana. Quelle che abbiamo noi sono le prime in assoluto arrivate in Italia. Sì, sono le prime in assoluto e devo dire, oltre alle B&W ho scoperto, veramente, ho scoperto Antonio, le elettroniche Chord che avevo sentito in realtà solo al Monaco Aien Cho e mi è capitato raramente di sentirle, invece ho scoperto un DAC pazzesco e un amplificatore finale altrettanto singolare per energia perché ricordiamo che il carico delle B&W, soprattutto la fascia alta, non è un carico semplicissimo. Esatto, no, mi permetto di dire che Chord è nata come fabbricante di amplificatori negli anni, fine anni 80 e solo negli anni 90 si è interessata a digitale, poi hanno indovinato questo nuovo concetto di conversione, soprattutto di lavoro sul filtro digitale, che è quello, diciamo, il trucco, il plus di Chord in questo senso. Quindi sono concentrati sul digitale, trascurando un pochino l'amplificazione. Negli ultimi due o tre anni hanno curato e hanno rivisto completamente la loro amplificazione che già aveva, questa particolarità dell'alimentazione switching, quindi permetteva di raggiungere potenze elevate in piccoli volumi a livello di contenitore, piccoli pesi, anche a costi un pochino più limitati, senza utilizzare la classe B, la classe D, scusi, quindi siamo sempre in classe AB, però alimentazione switching e ultimamente hanno anche rivisto completamente la circuitazione di controreazione con questo dual feed forward, ha permesso di fare un passo avanti anche nell'amplificazione, adesso siamo in grado di offrire una catena che dal digitale, dove ormai ci possiamo permettere di dire che siamo leader a livello qualitativo, non solo sul digitale ma anche sull'analogico. In questo caso abbiamo semplicemente un DAC che fa anche da pre e un finale, mentre la sezione di streaming e soprattutto di elaborazione digitale la fa questo prodotto di cui probabilmente adesso Vittorio si vuole legare. Sì, il Trino che conosciamo già molto bene, ovviamente è un prodotto che nasce di multicanale, prestato a questo punto alla esterofonia, come ci hai raccontato tu nel servizio che abbiamo fatto qualche giorno fa e aggiungo che chi non è potuto venire a Live Fidelity e guardare questo video, ricordiamo che l'impianto che qui sta suonando immagino sarà in dimostrazione nel punto vendita ancora per qualche giorno. Tra l'altro il Trino nel nostro punto vendita gestisce sia la parte di sala cinema che la parte di sala a due canali, con un preset andiamo a scambiare semplicemente la gestione dell'apparato, quindi si può ricontinuare a utilizzare. E poi so che magari nei prossimi giorni abbiamo in programma anche degli eventi, i prossimi giorni, le prossime settimane, magari a novembre in ultrano quando arriveranno anche i prodotti video di videoproiezione e sarà magari l'occasione giusta per organizzare degli ascolti di questo sistema pazzesco, veramente pazzesco, che vi invito ad ascoltare. Grazie di nuovo per il vostro tempo e ci vediamo tra i corridoi della Live Fidelity. Grazie mille.